Caltanissette e furti di monete e merce dai distributori. Questa volta ad essere stati forzati sono i distributori di snack all'interno del comune Nisseno. Già nei giorni scorsi due eventi simili. Uno ha riguardato i distributori H24 in via Consultore Benintendi, l'altro in via San Giovanni Bosco, entrambi forzati. Per entrare dall'interno del comune si sarebbero introdotti dall'accesso di salita Matteotti e poi hanno raggiunto il secondo piano. Lì avrebbero forzato i distributori e trafugato il denaro. Sul posto, dopo la segnalazione di un dipendente, sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato e della scientifica che hanno eseguito i rilievi. Sui fatti stanno lavorando gli inquirenti.